E' ufficiale che uscirà il 9 l'espansione Gratis Con Questo C'è con la cosa gratis Che è figo E' bello Paladino subito immediatamente No ok Scusate Scusate i piccoli problemi Allora Nel mio account principale l'ho fatto con il guerriero Quindi è un ladro stregone A sto punto direi Visto che sto giocando ladro ultimamente Manose monster Ah e hanno cambiato le esclamazioni nell'arena Bene vediamo se troviamo qualcosa di interessante Ecco questa è una nuova carta Però No prendiamo lui Starta rabbia Cominciamo bene Ok fuoco dell'anima adesso costa 1 Quindi fa schifo Per me che mi ha sempre fatto schifo fuoco dell'anima Quindi Fuoco demoniaco Uh Leggendarie Attenzione Malgenis Gli altri due demoni hanno più 2 più 2 Che troverò immune Questa è nuova Alexstras è molto buona Meccanista No mi fa schifo Ehm Proviamo Malgenis Capo incursione La bomba oscura è buona A sto punto io non andrei sul sicuro del demone Perché non siamo sicuri Andiamo sul golem Ok questa è una nuova carta che mi piace Perché è un murlock decente Ma Bruto ogre Molto forte Mi devi far pescare Questo vero Me lo devi far pescare Bombarolo più pazzo Perché esiste già il bombarolo pazzo E questi sono 6 danni suddivisi casualmente Essendo che è un 5 Io direi di prendere Il cobra Perché quelle carte sono troppo rischiose Macchina a volante fa schifo Quindi andiamo sulla nuova Masticatore Allora Io continuerei col fuoco demoniaco Perché E' versatile Cavaliere a mano d'argento Costruttrice di draghi Potere tra l'agente e il buono A sto giro prendiamo il goblin A sto giro prendiamo l'infernale Questo a me piace come carta Però abbiamo qualcosa per i demoni Prendiamo l'imp Il nullificatore è buono Quindi Quindi A sto giro Prendiamo Capiamo Allora Il trog non è sicuro C'è un 435 Sempre meglio degli altri Spiro letale La meia Non abbiamo molti robot Allora Allora Io direi Di Facciato a scatto E a sto punto Anche Poglietti è buono Manifestato Allora Carro ragno E' una carta buona Carro ragno E' buono Spira letale Anche Allora Abbiamo una Spira letale Giusto Non credo Faremo combo Quindi a sto giro Prendiamo Prendiamo il portale Questa carta Non mi piace Che non è molto forte La vinto Oh Noi ci proviamo Vamos Questa espansione Comunque Ho già visto Tutte le carte Perché l'hanno rivelate Tutte E' Bella E' una bella Espansione Questo devo dirlo Hanno aggiunto Nuove strategie Di gioco Carte Che da sole Plasmeranno Mazzi Ad esempio Probabile Che si plasmerà Un mazzo Per lo sciamato A mano del murloc Che io lo proverò Sicuramente Perché Sciamano mi piace Anche i murloc Oppure Casino di altri mazzi Allora Io direi Teniamo una curva Di mana Decente L'avventuriero Non lo voglio Il golem Si L'avventuriero Da Malganis Vabbè L'avventuriero È una carta Da considerarsi Un Tre mana Un Cinque mana Diciamo Tre tre Che poi Usi un'altra carta È abbastanza buono Salute Salutiamo Come sempre Molto piacere Prossimo turno Tap A meno che non pesco qualcosa di decente Ho dimenticato Ecco adesso ho messo il burso del cacca A rapporto Uccidiamo Lo gnomo Oh la bomba oscura Perché non metto giù la merda? Perché è un paladino? E come avrete ben potuto sapere Visto da questa serie Chiamo a missione paladino Quando facciamo la rena Prendiamo sempre lo stregone Praticamente Se tira fuori Lo spadone di vero argento Più tardio che quello Lo dobbiamo uccidere ora Può essere interessante Tutti gli ogre Hanno Il 50% di probabilità Di attaccare il nemico sbagliato Che Nella maggior parte Delle cose Non è molto buono Ah lui L'ha fatto lui da solo Grazie Grazie Perché è quello Che avrei voluto fare Allora io direi Di uccidere Che figa l'animazione E poi peschiamo Carte Possono turno 5 mana Possono mettere giù Il cavaliere A mano d'argento Sì Decisamente A rapporto Piero Al mio piatto Pronto signore Malganis Lo giocheremo Tardi Allora il paladino Non ha magie di rimozione Sì vabbè Oltre alla combo Però in arena È molto Improbabile Che abbia quella combo Nino non ha magie di rimozione Quindi Malganis È bombo Perché non può Buttarcelo giù In un turno La maggior parte delle volte Qualcuno ha detto bomba Oddio 1 2 3 4 5 6 Ok Molto buono Molto buono Trade Qualcuno ha chiamato Dottore Sto fatto direi Di metterla giù La provocazione Siamo indietro Abbiamo 18 di vita Capo incursione Che probabilmente Non userò Perché fa schifo Come carta Ho dovuto Pescarla Perché non c'era nient'altro Dobbiamo purificare Il colpo solare Ok Pesco una carta Poi non ci mandi questo Oddio Segatochi Perché a me Non vengono Queste carte Allora Tartarabbia La uccide Quindi no Golem Fammi pensare Costruttrice Sì sì Giustizia pretende In castigo La tua La soffrirà Così abbiamo tanta gente In campo E se Con due mana Mette giù qualcosa Di grosso Abbiamo il potere Travolgente Perché E' improbabile Che distrugga tutto Che questo va con questo Questo va con questo Si sopravvive Fammi pensare Anche un raptor Poi Il rapporto Ecco Ok Questo va con questo Questo lo mando No Non fa Non ha brutto La idea Allora Cosa voglio fare Allora Io metterei giù La tua Tartaruga Prendiamo così Vediamo Ok No Uccidiamo Lui E E E Crociata Scattata Passare Il prossimo turno Possiamo usare Malkanis Ma non abbiamo Demoni Quindi Boh E Si vabbè Crocolisco Quindi è un casino Di Non credo abbia Molto late game Questo ma il suo mazzo Perché Non ha messo Carta Per il late game Finora Accetto Il bombarolo Più pazzo E mi attacca In faccia Si Devo mettere Malkanis Se no Mi ammazza Allora Boom Così Chi voglio uccidere Pertanto Pertanto al prossimo turno Questo va con questo Decido Meno che non si coalizzino Per andare contro la tartaruga Ma non cambia Ecco Allora Possiamo Turno a turno 10 Possiamo mettere giù il carro ragno Che Vi voglio far notare Che è la prima carta L'unica carta esistente Di Hearthstone Che abbia queste statistiche 3 attacco 4 di vita Non ce n'è nessuna E per questo Allora A sto giro Come voglio togliere Lo scudo divino E scappa E scappa E scappa Accidenti Carro ragno Cobra Tagliato E non attacchiamo Ma aspettiamo Per attaccare Con lui E poi Il cobra Ma meno che non butti giù Il cobra con il mante Ok 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 Un graver Meno male Che non ha preso Malganis Se no Voglia di buttarlo giù Quel cosa Eh A chi vai addosso? Eh A chi vai addosso? Dimmelo A chi vai addosso? A lui Rimane uno di vita Carro Forza Ora comprendo Vabbè Ci muore Ci muore Eh sì Perché è giusto Perché è gratis Alla gioca E poi Boom Anche se arrivava Otto Otto Non ci avevo pensato Però me lo uccideva comunque Quindi questo era Il modo migliore Umiltà Ok Uno sei Comunque Un pochi diretto Adesso Un'ora ad attaccarmi Diretto No Ehm Non voglio usare Mi rifiuto Si al martello sono morto Semplice Si al martello sono morto Se non al martello sono messo bene Non al martello Anche perché se usa il martello Questo diventa Non in mia presenza Ma servirebbe molto Perché non hai usato una magia Magia prelevata Buttalo giù Adesso Buttalo giù Sì 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 Ma devo ucciderlo A questo punto La melma La tengo Proprio Come Ultima Risorsa Adesso Mai voglia fare Spadone E lui Velocemente L'hai ucciso Bravo Tieni un biscotto Non c'è Non ha senso evocarlo Io ci provo Sì Mettiti dietro Sì La fortuna Di aver usato Oh Dio Tra tutte le carte Che potevi avere Nel mazzo Perché l'abominio Dimmelo Tra tutte Quelle che potevi avere Perché l'abominio Lo eliminerò io Ok Se ha un murlo Con martello Qualsiasi cosa Sono morto A rapporto Qualsiasi cosa Sì Dammi una missione Non userò mai Ehi Dammi un minuto Ok Dimmi che non hai niente Che cos'è quello Dimmi che non hai un'altra consacrazione La vittoria Sì 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 Ottimo lavoro Ogni vittoria Migliorerà la tua ricompensa Ah è la prima volta che vinco in arena Con Instagram Va bene Bene ragazzi Non finirò l'arena In questo episodio Ovviamente Perché questa partita È stata lunga E combattuta Ho avuto una fortuna enorme Da MatoBoi120 È tutto Ciao a tutti E al prossimo video Ciao Ciao